Una due giorni ospitata dalla sala del liceo delle scienze umane e linguistico Mazzini di Locri dedicata al seminario formativo sul tema minori diversamente uguali ma non invisibili. Un evento organizzato dall'Aquilone Camera Minorile di Locri in collaborazione con l'ASNAS Calabria e con il supporto del comitato scientifico composto dall'avvocato Anna Gatto, presidente dell'Aquilone Camera Minorile di Locri e della dottoressa Francesca Mallamaci, componente e la direttivo di ASNAS Calabria. A succedersi nelle diverse relazioni sono stati una docente di psichiatria ma anche avvocati, rappresentanti delle associazioni e fondazioni, una psicologa e psicoterapeuta, un'assistente sociale, un'educatrice professionale e la responsabile dell'inclusione dell'ufficio scolastico regionale per la Calabria. Tutti esperti che gravitano nel mondo dei minori, diversi l'uno dall'altro e come tali uguali e visibili. Tanti i temi affrontati dalla disabilità dei minori nei suoi aspetti cognitivi, emotivi e sociali, ai loro diritti, alla loro inclusione sociale e scolastica e alla loro riabilitazione. Un'importante lente di ingrandimento per conoscere e comprendere sotto ogni aspetto dunque la diversità dei minori, perché la comprensione e la conoscenza abbatte e sconfigge la paura, le resistenze psicologiche, il pregiudizio ed è la condizione che consente a tutti, diversamente uguali, di sostenere sullo stesso piano una realtà condivisa. L'evento minori e diversamente uguali ma non invisibili è appunto il tema del seminario formativo che prende il via stasera e prosegue anche domani. Questo evento è stato fortemente voluto dalla Camera e da me personalmente ed è stato realizzato in collaborazione con l'AS NAS Calabria. Il tema è un tema di grande attualità sicuramente. Noi stasera vogliamo praticamente aprire una lente di ingrandimento su questo tema. Infatti ci saranno diversi relatori, figure professionali diverse, quindi non soltanto avvocati ma anche un neuropsichiatra, psicologi, esponenti di associazioni, perché quello che vogliamo praticamente trattare è questo tema a 360 gradi, cioè nei suoi vari aspetti, quindi non soltanto quello giuridico ma anche quello sociale, quello scolastico, il profilo della riabilitazione e tutti gli aspetti appunto che sono connessi anche a questo. L'evento praticamente è accreditato presso l'ordine degli assistenti sociali ed è in corso di accreditamento presso l'ordine degli avvocati di Locri. Questa diversità io oggi sono molto contenta di essere qui e sono diciamo di due cuori, perché da una parte sono contenta perché è sempre utile organizzare questi eventi in cui si cerca di dimostrare che le persone con disabilità sono persone la cui disabilità dà un valore aggiunto agli altri, però nello stesso tempo sono molto arrabbiata se ancora devono essere organizzati eventi per dimostrare che la persona con disabilità è uguale a tutte le altre persone. Però comunque è bene che si faccia attività di sensibilizzazione e io in prima persona ormai da 50 anni che occupo il mio tempo, quello libero e anche quello non libero a far capire questo alle persone tra virgolette normali.